No, questa è tutta roba che ho già visto. Penso che sta cercando di reinventare la vita parola. Ma dove sono tutti gli altri altri? Qui ce ne sono alcuni. Stai qui, guarda per ascoltare. Secondo me potrebbe essere molto interessante. No, io proprio la trovo sconcertante. Perché deve essere così difficile mettere su una rassegna decente? Avete avuto ore e ore per prepararla. No, però, credetemi. Dove sono tutti gli sponsor? Ah, abbiamo alcuni pezzi di banana alle tante. Vuoi ci servono di più, no? Potrebbe essere... Oh, sì. E beh, tu mi conosci. Dammi una golla di tulle, un tocco di vecchio west e sono perdutamente duro. No, non ti pare che sia un po' troppo come... È come l'acqua di luglio? Sì, ma no, ci ho pensato. Ma con i tutti accessori per me funziona. Dove sono le cinture? Ok. Ma perché nessuno è pronto? Ecco, la scelta è ardua. Sono talmente diverse. Ti fa ridere? No, 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 niente. Ecco, solo che quelle tue cinture mi sembrano esattamente identiche. Eh, sai, io sto ancora imparando tutto di questa roba. Di questa roba? Oh, ma certo, ho capito. Tu pensi che questo non abbia nulla a che vedere con te? Tu apri il tuo armadio e scegli, non lo so, quel maglioncino duro infestrito, per esempio, perché vuoi gridare al mondo che ti prendi troppo sul serio per curarti le cose che ti metti addosso. Ma quello che non sai è che quel maglioncino non è semplicemente gelo, non è turchese, non è lapice, è effettivamente ceruleo. E si è anche allegramente inconsapevole del fatto che nel 2002 Oscar della Renza ha Renziato una collezione di gommi cerulei. E poi è stato insomma, non se non sbaglio, a proporre delle giacche militari color ceruleo. Sai una giacca questa? E poi ceruleo è rapidamente compasso nelle collezioni di otto diversi stilisti. Dopodiché è arrivato poco a poco nei grandi magazzini. Alla fine si è infiltrato in qualche tragico angolo casual che è giocato in un tele di scatola nel cesto delle occasioni. Tuttavia quel azzurro rappresenta milioni di dollari e innumeremo i posti di lavoro. È insomma il limite del conico quando penso che tu sia convinto di aver fatto una scelta fuori dalle proposte della moda. Quindi in effetti indossi un golfino che è stato selezionato per te e dalle persone più presenti. E metterò una pila di roba.